Buongiorno a tutti, sono Stucchi Andrea del comitato Ferma e Comostro, siamo oggi qua in Piazza Marconi a Vimercate, c'è la manifestazione diffusa organizzata con tutti gli altri comitati in Ope de Montana e con la Lega Ambiente, in ogni paese lungo la tratta ci sarà un gazebo dove invitiamo la gente a venire a far vedere la nostra dissenso di questa opera che secondo noi è inutile e raccogliamo firme come stiamo facendo da due mesi, siamo arrivati a oltre i 4.000 firme. Come si svilupperà la manifestazione oggi? Oggi qua a Vimercate Bellusco ci sarà nella piazza il raggruppamento di persone e poi alle 10.30 si parte con una camminata di 3 km e finirà in un campo dove Pede Montana vuole costruire questa autostrada di 3 corsie e più una di emergenza quindi per un totale di 8 corsie. Grazie.